ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di quanto è pericoloso come sempre mi presento mi chiamo nottia ma sono cruz degli amici e oggi sono qui al parco del pontoncello verona questa bellissima giornata autunale ricca di foglie di tutti i colori ricca di funghi ricca di vita alla ricerca di uno degli animali che più incute terrore al genere umano ovvero il serpente stiamo cercando una delle due bisce più comuni del nostro territorio l'anatrice dal collare o la biscia tassellata siete pronti iniziamo la nostra avventura allora ragazzi intanto vi posso raccontare perché sto seguendo l'argine di questo posto i serpenti durante l'inverno vanno una specie di letargo ovvero vanno in ibernazione cosa succede che anche i serpenti acquatici si allontanano un po dall'acqua e si rifugiano per questi mesi freddi all'interno di anfratti sotto le rocce o dietro delle cortecce di albero vediamo se troviamo qualcosa Musica eccoci qui sono stato un po cattivo l'ho portata con me abbiamo con noi una biscia tassellata natrix tessellata è il suo nome scientifico che cosa di particolare questa biscia è la biscia più acquatica che possiamo trovare in europa è legata strettamente agli ambienti fiume di lago di fosso e via discorrendo in questo periodo dell'anno va a rintanarsi preparandosi per l'inverno difatti ragazzi sono rettili i rettili non sanno termoregolarsi da soli hanno bisogno del sole aspettano dunque l'arrivo della primavera per ritornare attivi come è possibile ragazzi distinguere una biscia da una vipera le viper hanno la testa fortemente triangolare e le pupille elitiche come quelle dei gatti al contrario le bisce hanno le pupille completamente rotonde e la testa un po più slanciata questa caratteristica possiamo utilizzarla anche come regola ma attenzione solamente in italia per quanto riguarda la pericolosità di un serpente difatti le uniche specie velenose in italia appartengono al gruppo dei viperidi quindi ragazzi trovate un serpente con una pupilla rotonda è sicuramente un animale non velenoso attenzione però questa regola torno a ripeterlo vale unicamente in italia in altri paesi del mondo infatti anche i colubridi possono essere velenosi in un paese dove vado spesso a lavorare ovvero il sud africa esiste il bun slang questo serpente ragazzi è molto simile alla biscia a livello morfologico ma attenzione è estremamente pericoloso se non addirittura mortale allora ragazzi questo serpente lo possiamo riconoscere per la livrea ovvero la pelle che ha delle caratteristiche colorazioni grigio verdastre delle macchioline nere dovete sapere formano i cosiddetti tasselli che a volte uniti possono sembrare quasi delle righe lungo tutto il corpo questa specie di serpenti può arrivare anche a il metro e trenta di lunghezza solo nelle femmine però i maschi tendono ad essere più piccoli circa 80 centimetri un metro al massimo questa specie la possiamo distinguere dalla cugina ovvero dalla natrice dal collare per l'assenza per l'appunto di quelle macchie giallastre attorno al collo la testa inoltre è molto più slanciata rispetto alla compagna biscia dal collare raramente ragazzi questi serpenti mordono solitamente tendono a scappare e rifugiarsi in qualche anfratto oppure fingono di essere morti cosa succede in caso di pericolo al massimo fanno finta di lanciare qualche rapidissimo colpo con la bocca bene ragazzi abbiamo avuto degli ospiti abbiamo fatto le ultime riprese alla nostra natrice tassellata adesso come sempre la libereremo qualora dovesse esservi piaciuta la puntata mettete like iscrivetevi alla pagina per dare la possibilità a me ad angela di continuare questo lavoro e seguiteci anche su instagram ci vediamo alla prossima avventura ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.